Un saluto ai nostri telespettatori, primo appuntamento reale con la trasmissione Medicina senza frontiere in compagnia del professor Giulio Tarro che saluto e ringrazio per essere qui in questo ciclo di trasmissioni che avranno come protagonista la qualità della vita, la salute, la medicina dal punto di vista etico. Un appuntamento voluto fortemente anche dal provinciale dei Redentoristi Padre Davide Perdonò col quale nella puntata zero abbiamo presentato i temi, gli argomenti che tratteremo nel corso di questo ciclo di trasmissioni. L'appuntamento di quest'oggi, il primo tema, quello dal quale un po' poi si svilupperanno le tematiche che affronteremo, è quello di una medicina per l'uomo e in questa accezione noi comprenderemo una serie di concetti che svilupperemo con il professore Tarro anche prendendo spunto da quaderni che il professore ha scritto nel corso degli anni e che rivisitano un approccio tra medico e paziente. Il professore scrive nel mondo occidentale il rapporto tra medico e malato è stato sublimato sempre nel dovere del medico di fare del bene al paziente e al paziente di accettarlo. In questa visione il medico diventa una sorta di sacerdote che agisce da mediatore con la divinità ripristinando l'ordine della natura, sempre forte del giuramento iniziale. Ecco professore, oggi questo tipo di concettualità è ancora necessario, cioè è ancora importante rimarcare questo e perché soprattutto lei comincia, fa questo preambolo nel suo lavoro? Io credo che innanzitutto abbiamo dei valori fondamentali in cui c'è stato per così dire inculcato da sempre che il medico è una specie di sacerdote. Il medico però, nell'accezione del termine, che deve curare il paziente e possibilmente guarire, ma non è nel rapporto uomo-paziente questa definitiva possibilità, che ha sempre studiato in particolare nel corso dei secoli perché fosse lui il tramite del rapporto con la salute e quindi diciamo se c'era un'anomalia nel corpo, quindi noi chiamiamo oggi patologia, fosse il medico a riportarla praticamente nell'ambito della fisiologia, cioè della normalità, delle funzioni che invece diciamo purtroppo per motivi diversi non c'era più questa situazione. Ora noi diciamo come medici abbiamo fatto e facciamo tuttora il famoso giuramento ipocratico e quindi c'era diciamo come dire in questa situazione, da sempre possiamo dire, i valori anche dell'apporto poi nei riguardi del paziente stesso. Noi giustamente si è detto prima la divinità che era Esculapio di una medicina e poi era il suo, diciamo, come dire, mediatore essendo questo grande medico dell'antichità. Ma siamo praticamente, non vogliamo andare oltre per così dire, la nascita di Cristo, siamo ormai a 2000 anni di questa situazione e ovviamente molte cose sono cambiate e soprattutto è cambiato, si può dire, nell'ultimo secolo questo rapporto. Il rapporto oggi è del paziente, per il medico e innanzitutto il paziente è sempre meno paziente. È un numero. Oggi diciamolo, oggi il paziente è un numero anche diciamo nella concettualità, nella concezione che c'è al di là che in diverse strutture sanitarie per motivi di privacy effettivamente il paziente diventa un numero anche dal punto di vista pratico, però nell'accezione, nella considerazione purtroppo diciamo che il paziente diventa sempre più, quando soprattutto entra in contatto con uno strutture di assistenza, diventa sempre più un numero. E quindi io credo che vi siate posti, soprattutto per chi viene dalla sua scuola, il problema dell'etica rapportato alla nuova tecnologia. E quindi il rapporto medico-paziente, tecnologia, modernizzazione, avanzamento ovviamente della ricerca, dello studio, anche della cura del paziente stesso. E come si fa a raggiungere poi un equilibrio? È stato molto bello diciamo questa possibilità di andare dall'inizio, si può dire dalla nascita a quello che avviene con la crescita, quello che avviene con il rapporto con gli altri, quello che avviene soprattutto poi nel periodo in cui cominciano a essere non più malattie dei bambini, ma malattie dell'adulto. E ovviamente ognuno ha una esposizione diversa. in questo aspetto. E quindi il contatto con l'ambiente direi non solo sanitario, ma anche parasanitario. Noi dobbiamo vedere nella sua globalità questa situazione. E allora il fatto non solo di essere un numero, certamente è contrario a quanto abbiamo detto prima sul rapporto medico-paziente nella visione diciamo ipocratica. Però abbiamo questo fatto direi non soltanto del numero, ma direi loro al paziente, e dicevo nella frase precedente la meno paziente, ma perché oggi ci si rivolge al medico anche per il proprio benessere. Quindi non solo quando non sta bene, bene, ma pretende dal medico per così dire di avere maggiori possibilità di espletare la sua salute. O meglio di vivere meglio. Vivere meglio perché vogliamo vedere il problema delle diete e all'alimentare, le proprie funzioni, nello sport, nel rapporto diciamo col partner e via di seguito. A punto di vista etico è giusto o è sbagliato? Ecco, l'etica generale è la morale, ma noi abbiamo dal 1970 un libro di Van Potter, un oncologo, che ha scritto The Bridge to the Future, il ponte al futuro. Ed è stato, si può dire, il primo libro di bioetica viene considerato. Perciò allora abbiamo la possibilità di parlare non più di etica in senso genetico, ma il rapporto, cioè nei riguardi della biologia e tutto quello che ne consegue, è la medicina, la regina per così dire, di questo campo delle scienze. Allora che vuol dire? Vuol dire che praticamente, mentre inizialmente Van Potter aveva scritto il suo libro di bioetica, essendo lui un oncologo, si preoccupava del trattamento dei pazienti con la famosa chemioterapia, quindi con tutti gli effetti non solo positivi, ma anche gli effetti collaterali che ci sono con tale tipo di terapie. Certamente c'era una questione di bioetica in cui non si può andare al di là, bisogna non nuocere il paziente, questo è il famoso non li nuocere, questo era il concetto di sempre. E per cui rivedere anche a livello del progresso scientifico questo campo che era tutto sommato nuovo per l'accezione del termine. Oggi si va ancora in questa direzione, lei ha fatto un riferimento alla chemioterapia che ormai purtroppo per l'uso che siamo costretti a farne è risaputo che ha degli effetti non proprio benefici dal punto di vista proprio del sentirsi bene dell'individuo, del sentirsi in forma. C'è ancora questa strada che viene perseguita, trovare, non parliamo di equilibrio ma una via di mezzo tra la cura di malattie, aggredendoli in un determinato modo e cercare di salvaguardare anche l'aspetto del paziente insieme. Credo sia molto importante fin da adesso di cominciare ad attingere a queste situazioni purtroppo pratiche. Sicuramente nell'approccio medico nei riguardi del tumore, quindi del paziente che ne ha affetto, bisogna essere in grado di poter innanzitutto rimuovere il male. Utilizzando dalla chirurgia, che sempre rimane l'aspetto principe, la rimozione, alla famosa radioterapia, quindi questo è un altro sistema acclarato, documentato, intervenire e poi un terzo campo era legato alla chemioterapia, cioè di farmaci che nonostante il loro dosaggio potesse essere anche di documento, di danno alle cellule normali, però soprattutto era importante che agissero nel colpire le cellule tumorali. Cioè raggiungessero l'obiettivo. Purtroppo, diciamo, sicuramente a volte è una questione di equilibrio, per cui a volte il danno veniva superato. Oggi fortunatamente ci siamo di fronte a una situazione che è cambiata nello studio, diciamo, totale dell'organismo, nel senso che molti dei danni causati dalla chemioterapia oggi possono essere, per così dire, evitati utilizzando proprio quei farmaci, per così dire, fisiologici nel bersaglio, diciamo, di danno della chemioterapia. Oggi c'è maggiore attenzione anche a questo aspetto? Abbiamo la possibilità di avere il farmaco per i clobri rossi, il farmaco per i clobri bianchi, il farmaco per le piastrine, il farmaco per gli infrasciti e le nostre sentinelle di difese. Abbiamo tutta una serie di ciottini, ma soprattutto si è aperto un altro campo, che sarebbe sempre in generale della chemioterapia, ma invece è legato all'uso di farmaci, che sono i famosi farmaci intelligenti, c'è proprio tutto un nuovo capitolo della farmacopea in cui è possibile, diciamo, colpire direttamente le fasi di replicazione della cellula, proprio quella maligna rispetto a quella, per così dire, normale e quindi c'è già una elezione nel livello di farmaco usato e questo certamente ha aperto di molto le possibilità di trattamento anche al di là e al di fuori della chemioterapia. Poi noi certamente sappiamo che finalmente da alcuni anni c'è stata la possibilità di associare la cosiddetta immunoterapia, terapia potenzialmente di grande effetto, però purtroppo poi a livello pratico ancora da studiare, che può portare a aumentare la strategia di difesa dell'organismo attraverso le proprie capacità, quindi le proprie cellule, le proprie sentinelle, i propri spazzini per le cellule malate e tutto questo oggi rappresenta anche un'altra realtà. Poi io visto che abbiamo parlato solo di terapia, non dimentichiamoci che in un ambito così scottante come quello dei tumori, sicuramente non possiamo non citare l'importanza della prevenzione, la prevenzione deve essere la monte di tutto, oggi con i nostri stili di vita, nell'ambiente in cui viviamo diventa un fatto fondamentale, ecco la prevenzione deve essere primaria nel senso di rimozione della causa di cancro, ovviamente accertata, ma anche prevenzione cosiddetta secondaria che sarebbe la famosa diagnosi precoce, la possibilità che ci siano degli elementi che possono essere per così dire utilizzati attraverso un esame di sangue, un esame diverso dell'organismo e che ci può permettere di intervenire su un tumore appena iniziato diventa fondamentale, perché chiaramente è molto più facile rimuovere il tumore in una diagnosi precoce. Certo, di questo poi ovviamente nel ciclo di questi appuntamenti parleremo anche più approfonditamente, perché potrebbe essere interessante per il telespettatore che ci ascolta capire di che cosa ha bisogno quando parliamo di prevenzione primaria, come rimuovere le cause, di prevenzione secondaria, quali tipi di accertamenti diagnostici bisogna effettuare, in quale lasso di tempo, con quale tempistica e quindi magari io proporrei addirittura un vademecum che potrebbe migliorare o anche aiutare a stare un po' più tranquilli, perché poi alla fine professore questa situazione diventa anche stressante per l'uomo, insomma il contesto, il bombardamento anche di situazioni, di notizie che arrivano, anche questo costituisce un fattore di stress, quindi questo è un aspetto che mi piacerebbe poi approfondire con lei. Io voglio ricordare tra l'altro ai nostri telespettatori che in questo appuntamento è possibile anche interagire con il professor Tarro attraverso un indirizzo di posta elettronica che la regia vi propone in sovrimpressione che è sanità, senza l'accento, senza frontiere, chioccio a gmail.com. Stiamo anche predisponendo un numero telefonico per l'invio anche dei messaggi attraverso sms, e proporre dei quesiti a seconda poi della tematica che vorrete voi da casa sottoporre al professore Tarro. Fatta questa premessa volevo ritornare su uno degli argomenti che abbiamo iniziato a trattare, cioè quello dell'approccio psicologico, medico-paziente, personale poi anche infermieristico per così dire alla vecchia maniera. Quanto è importante anche sulla psicologia e sulle possibilità di guarigione del paziente può essere un approccio, magari vecchia maniera, a quello del medico della mutua per così dire, che direttamente si rapportava al paziente? Io credo che giustamente sia appena detto l'importanza dell'informazione per quel che riguarda appunto il problema della malattia e quindi giustamente noi faremo in maniera di dare il battimento, di interagire per quello di dire con l'ascoltatore e soprattutto penso però sia altrettanto importante in una promozione del genere, nel senso del termine, ci rendiamo conto che, dicevamo prima la globalità dell'ambiente sanitario, deve far sì che noi ci rendiamo conto di quello che noi stessi, poi persone dell'ambiente e quindi siamo soggetti a volte per nostre malattie, per nostri problemi, diciamo la parte burocratica, ma la parte giustamente diceva lei psicologica che siamo soggetti noi stessi, tanto è vero che la differenza, la cosiddetta pietra di Rosetta, il cambiamento di questo rapporto è venuto proprio da alcune persone che sono state affetti dalla malattia e sono state in grado di scrivere capitoli, libri addirittura e cambiare completamente il nostro atteggiamento, l'importanza enorme della parte psicologia, l'aspetto della malattia, è importante anche perché, diciamolo pure francamente, molte volte si parla di viaggi della speranza senza che ci sia un'effettiva differenza, soprattutto tornando all'oncologia, su terapie che ormai sono protocollate, quindi identiche da Napoli a Milano, da Milano a Parigi, da Parigi a New York e via di senso, e invece però, ecco cose che cambia veramente in questi viaggi della speranza, è l'ambiente parasanitario, la possibilità… Assistenza, la qualità dell'assistenza… L'assistenza e anche il trasporto delle persone nei riguardi del paziente, quindi c'è quel comune denominatore che dovrebbe essere insito a questo punto nel rapporto dei valori ippocratici che abbiamo iniziato la trasmissione… Potremmo riprendere un passo della Bibbia, non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te, ecco rapportato negli ambienti, soprattutto nei nostri ospedali purtroppo, anche se non generalizziamo, però noi anche come redazione raccogliamo numerose segnalazioni e lamentele di questo tipo. Bisognerebbe capire che al di là anche dell'aspetto economico che può avere la sua importanza, perché i viaggi della speranza potrebbero essere ridotti se ci fosse una migliore professionalità nell'assistere, nell'accogliere il paziente stesso, ma poi anche dal punto di vista della guarigione probabilmente, professore, io insisto anche su questo, perché ecco porsi psicologicamente, quindi accettare, far accettare alla persona malata la propria situazione, la propria patologia in una maniera, con un approccio psicologico buono, forse fa il 50% già. Ma credo che sia anche bene, visto il nostro punto di riferimento dei temi della trasmissione, è legare quel fatto, diciamo, di questa etica, oggi chiamiamo bioetica, come se dovesse essere esclusivamente di alcuni, chiamiamo i soloni, e noi dobbiamo aspettare loro che ci diano queste informazioni, i famosi talk show televisivi con tutti i sapientoni che parlano diciamo di questo aspetto. Io invece sono proprio contrario per principio di queste torri e burne, queste cattedrale nel deserto, deve essere l'aspetto bioetico di ognuno di noi, ce lo dobbiamo sentire dentro, dobbiamo ovviamente riferirlo, associarlo con tutti gli altri, deve essere ancora un popolo, perché dobbiamo essere tutti insieme a decidere su dei valori che diventano fondamentali, che sia nel campo della medicina e non solo. Sore, lei ha un'esperienza ovviamente professionale, un bagaglio enorme, ci rapporta per esempio alla sua esperienza di casi che lei ha visto trattati in un determinato modo con questo tipo di approccio rispetto magari a delle situazioni che si sono verificate? Io vorrei partire da un approccio, quindi da un esempio importante, anche perché mi devo risalire all'inizio degli anni Ottanta, quando era difficile in quel momento riuscire a pensare che un vaccino che viene dato per prevenire una malattia, che generalmente nel campo delle malattie infettive, potesse avere per così dire dei danni collaterali, non era proprio concepibile, soprattutto a livello sanitario, medico, purtroppo però, e io mi permetto di dirlo perché sono stato, posso dire, figlio del scientifico del professor Albersevini, quindi il vaccino della polio, della paralesi infantile, che è quello che è riuscito per così dire quasi ormai a finire la paralisi infantile nel mondo, è legato alla somministrazione orale, però nei paesi ormai sviluppati, il vaccino precedente è quello del professor Salk, che si fa con la somministrazione parenterale, quindi non con lo zuccherino, perché non per bocca, ma eventualmente ci vuole un'iniezione, chiaramente non è un'applicazione facile per così dire nei paesi in via di sviluppo, ormai fomisticamente che mi chiamiamo no rispetto ai paesi del terzo mondo, perché ci sono tanti problemi in cui anche per così una seringa buon uso diventa un fatto molto difficile da avere, però ecco, perché dico questo? dico questo perché all'inizio degli anni Ottanta un povero padre che ha già perso più di un figlio per una questione di somministrazione bacinica ha vissuto questa sua situazione personale e quando eventualmente cercando di salvare l'ultimo figlio, già per così dire con problemi di danno, però ancora vivente, si è rivolto al nostro mondo sanitario, purtroppo non solo a livello italiano, ma anche a livello per così dire europeo si è sentito dire che ha bisogno di ossigeno, tra silvalico, apri il finestrino o peggio a livello diciamo di istituzioni sanitarie il bimbo deve in ogni caso morire, ora nel caso specie in cui ci sono di fronte a un bimbo che oggi è un signore di 38 anni, che ha vissuto, questo è un caso pratico che lei in italiano, l'ha scritto in francese, è un fatto come dire che inizialmente era una questione che non se ne poteva parlare, non si poteva immaginare, invece ha la possibilità che questi soggetti possono anche essere curati e possono sopravvivere per il piacere e soprattutto chiaramente il sentimento che non è fortificabile. È riuscito a trovare qualcuno all'epoca che lo ha ascoltato? Diciamo pure ecco perché io ho riportato questo esempio, allora diciamo nel 1980 a riuscire a dire qualcosa sull'argomento che riguardava un danno dal vaccino antipolio sensibili, forse solo io l'avrei potuto fare e così fu. Insomma queste sono poi, e questa è un'altra argomentazione della quale noi ci siamo occupati soprattutto recentemente rispetto ai vaccini, benefici ovviamente, ma anche quelli che possono essere poi dei danni e forse sarà il caso anche qui di affrontarla questa tematica professore Tarro. Io per chiudere volevo rimarcare, al di là del monito che volevo che lei lanciasse rispetto a tutte quelle persone che lavorano in campo sanitario, ad approcciarsi in maniera diversa, ma anche sorridente magari, con il paziente, con la persona ammalata può essere già fondamentale nella cura delle malattie. Io vorrei che lo dicesse lei perché ovviamente io non... Abbiamo proprio accennato al fatto dell'ambiente globale della sanità, che oggi appunto si chiama salute, e deve riguardare tutti quelli che partecipano. Io dico siamo un tassello di un mosaico, quindi non c'è una differenza, sicuramente c'è una qualità, ma per la qualità rispetto agli studi che uno ha fatto, però poi nel rapporto invece con l'altro e quindi col paziente, deve essere come avere a che fare con un proprio familiare, con una persona che uno non ci vuole veramente tenere di sentimento, non vorrebbe essere sbagliato del missionario, però è una questione secondo me come dire, dovrebbe essere spontanea, scontata e purtroppo, come sappiamo, non lo è. Non lo è. Quindi lasciamo a casa un po' di problemi quando lavoriamo soprattutto in questo campo così e delicato e cerchiamo di affrontare anche un lavoro in maniera più serena. Un'ultima cosa, professore, e ritorniamo un po' ai temi della biomedicina e anche della bioetica. Oggi la medicina si trova di fronte ad un bivio, cioè quella di affrontare, di poter far conciliare scienza e uso razionale delle tecnologie. Questo è un bel problema. Credo che sia un problema fondamentale e potremmo proprio completarlo nel fatto che noi non possiamo fermare la conoscenza, non possiamo tornare al momento di Zeus, di Giove che punisce Prometeo perché gli ha rubato il meccanismo del fuoco e manda per, sempre Zeus, Giove, manda a Pandora col famoso vaso che non deve aprire, ma è un vaso tutto pieno dei mali della terra e chiaramente la curiosità fa rompere il vaso con tutto quello che ne segue. Bene, noi ci ritorneremo su questi argomenti e su queste tematiche. Entreremo ovviamente sempre più nello specifico delle problematiche, ma era giusto con lei fare questa premessa iniziale anche per far carpire quale sarà il senso di questo appuntamento. Medicina senza frontiere è soprattutto affrontare la qualità della vita, la qualità della salute dell'individuo sotto aspetti diversi che molto spesso vengono tralasciati anche in televisione, in appuntamenti. Oggi sempre più c'è la moda dei soloni che affrontano e che spiegano determinate cose, ma motivarle anche rispetto ad un'etica e ad una morale che molto spesso manca. Grazie professore Tarro per essere stato qui con noi e noi ai nostri telespettatori diamo appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate in sovrimpressione ci sono l'indirizzo di posta e il numero a cui inviare sms per qualunque tipo di domanda o di quesito che riguarda queste tematiche al professore Giulio Tarro. Grazie per averci seguito. Arrivederci.